Intro Ciao a tutti amici, un saluto da Panic e bentornati qui su Destiny Oggi affronteremo assieme la recensione di un'arma leggendaria chiamata striscia satarienne o meglio la striscia satarienne Arma che magari alcuni di voi non conoscono, magari altri si Che però va inserita di diritto nella classifica delle armi delle best weapon Come si può ottenere la striscia satarienne? Il modo più semplice per così dire è quello di andare a prenderla dal quartier mastro del crogiolo Vedete, eccola qua, è un fucile da ricognizione leggendario con 331 come attacco massimo Che costa 150 marchi, adesso se sparisce la notifica del messaggio, ok Che costa 150 marchi del crogiolo e un encomio del crogiolo Si può ottenere dal grado tra in poi 150 marchi del crogiolo Che se ne prendete 100 settimane sono ottenibili in una settimana e mezza Io ho risparmiato un sacco, ho fatto un sacco di partite pvp per giocarle Per giocare, per accumulare questi marchi e acquistarla Un altro modo per trovarla è quella di trovarla insomma negli engrammi ottenibili tramite i pacchetti che si ottengono salendo di grado del crogiolo Però è possibile che ve la droppi con perk che non siano questi qui che andiamo a vedere adesso Intanto analizziamo le statistiche, vedete una cadenza media, un impatto molto molto alto, una gittata altissima, stabilità ricarica Anche queste molto molto alte Sostanzialmente la striscia satariana ha gli stessi perk della sorte fatale Infatti fuori legge, le uccisioni precise con quest'arma aumentano notevolmente la velocità di ricarica e libellula Per quanto riguarda la colonnina centrale abbiamo i proiettili a calibro elevato Che come vedete diminuiscono la gittata sostanzialmente per far barcollare i bersali quando vengono colpiti La forgiatura metallo che aumenta la gittata precisione E i proiettili sfondo a corazza che aumentano un pochettino l'impatto Sarebbero praticamente quei proiettili che penetrano nelle corazze degli avversari Io mi piace giocare con gittata precisione aumentata perché sparo molto da lontano Quindi ho messo questo qua Ma voi siete liberi di mettere quello che più vi piace Dicevamo fucile da ricognizione con 381 d'attacco massimo 13 colpi nel caricatore e con i perk di sorte fatale Quindi libellula, dicevamo che sono praticamente libellula il perk che fa esplodere i nemici Quando si fanno danni critici, quindi in testa E fuori legge che è la velocità di ricarica aumentata quando si fanno uccisioni precise L'unica pecca di quest'arma è che non ha il fuoco automatico come la visione di confluenza Essendo anch'esso un fucile da ricognizione ma sarebbe veramente veramente troppo Questa è un'arma potentissima ragazzi perché è un fucile da ricognizione Quindi è un'arma molto molto precisa che con libellula è veramente devastante Perché se già con la sorte fatale riuscivamo facilmente a fare danni critici alla testa dei nemici Con questo è ancora molto molto meglio Nel gameplay che vedete in sottofondo, in sottofondo diciamo, che vedrete passare Mentre finiamo la nostra chiacchierata su questa bellissima arma Vi faccio vedere le due varianti di mirino Io uso o questo che è il mirino laser AOS, mirino in precisione Oppure questo qua l'ultimo, il quick draw, vedete che cambia Questo è a scelta vostra Diciamo che forse con il mirino OAS è un po' più facile mirare alla testa Questo qua forse è un pochettino più complicato da usare Diciamo che l'OS occupa un pochettino più di schermo Questo è un pochettino più sottile a vostra scelta Ma la scelta che non avete è quella di non avere quest'arma Quindi io vi obbligo, se non l'avete ancora, a comprarvi quest'arma Perché è un'ottima, ottimissima alternativa a tutte le armi esotiche o leggendari Che potete droppare, trovare, acquistare È assolutamente un must have per voi, videogiocatori di Destiny Non importa quale classe utilizzate Quindi classe cacciatore, titano, stregone Qualsiasi classe avete, dovete assolutamente possedere quest'arma Che vi ripeto, è sostanzialmente una sorte fatale Versione fucile da ricognizione con 331 d'attacco Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi ce l'avete Se la conoscevate, se adesso che ve l'ho fatta scoprire vi è venuta voglia di acquistarla Ovviamente lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video Se vi è interessato, noi ci vediamo alla prossima video recensione Un saluto da Panic, ciao ragazzi Musica 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 Musica